Il report settimanale sui dati relativi all'emergenza covid in Puglia destano preoccupazione. Negli ultimi giorni si è registrato un incremento dei positivi su una base più ampia di cittadini sottoposti a test. In Puglia si parla di 333 casi per 100.000 abitanti ma tra 14 giorni il numero sembra destinato ad aumentare 379 casi per 100.000 abitanti. Un andamento di questo tipo determinerebbe un ulteriore impatto sulla rete ospedaliera determinando gravi criticità nella capacità di assicurare assistenza ai pazienti covid non covid soprattutto considerando che nell'ultima settimana l'incidenza appare trainata prevalentemente da contagi in classi di età avanzate. Alla base dell'ordinanza emanata nelle scorse ore dal governatore Emiliano c'è proprio il report covid regionale che rileva importanti criticità nella disponibilità di posti letto in tutta la regione sia in area medica che in intensiva. Le situazioni più problematiche sono rilevate in provincia di Bari e di Taranto dove la ripresa dei contagi si è registrata prima ma segnali di saturazione provengono anche dalle province Batte e Lecce. Intanto nell'ultima settimana sono 180 nuovi focolai registrati in Puglia per l'80 per cento in ambito familiare solo 4 i nuovi focolai scolastici. Un grande focolaio si è sviluppato nel Salento con più di cento casi collegati legato ad eventi sociali. Focolai sono stati registrati anche locali pubblici in ambienti lavorativi e in un ospedale del Tarantino.